Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte Siamo in compagnia di Mil Ciao ragazzi, ciao a tutti Inarte Mil Francesco E che ci aiuterà in questa canzone di Mara Sattei, 2000 minuti Sempre Sanremo 2023 Yes Dopo la sigla Bene ragazzi, questa canzone si compone di sei accordi in totale Ve li facciamo vedere subito Che sono Re maggiore Quindi Re, Fa diesis, La è il primo accordo Poi avremo accanto Mi minore Mi, Sol, Si Poi andiamo un po' indietro Arriviamo fino al Si Si minore Si, Re, Fa diesis Poi Sol, ancora indietro Sol, Si, Re E poi gli ultimi due accordi saranno La maggiore, quindi accanto La, Do diesis, Mi Ed infine il Fa diesis minore Quindi andiamo un po' dentro il pianoforte Fa diesis, La, Do diesis E la canzone fa prima un intro di quattro accordi Che sono questi E comincia Ti chiamerei anche se non prende Ti cercherei dove non si vede Dove se rimanermi niente Non importa se fa male Piedi scalzi sulla neve Non ho paura di cadere Passaggio Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti Però il risultato non cambia Nemmeno se cambi gli addendi Pensavo di poter usare la voce Ma dentro di me ora la voce non c'è Ed ho usato duemila minuti Per capire di me in fondo cosa pensi Ho trovato solo la rabbia Forse siamo troppo diversi Ho capito che era un amore Ma soltanto un gioco che avevi creato per me E dimmi se c'è stato amore Tra quelle parole E poi dammi duemila minuti Anzi duemila ore Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare Poi sei scappato ed hai rubato Tutta la mia voce Tutta la mia voce Bene, poi la canzone va avanti Fa sempre strofa e ritornello Ma gli accordi restano sempre gli stessi Bene, come abbiamo visto Anche questo è un brano molto semplice da suonare nel pianoforte Io ringrazio mille Grazie a te Mario Grazie a tutti Seguito perché adesso è forte Eh sì, grazie Su Instagram soprattutto Anche su TikTok Ovunque Ovunque E vi ricordo di iscrivervi su questo canale Se ancora non l'avete fatto E di cliccare la campanella Così ogni volta esce un video nuovo Vi arrivi una notifica E potete guardare subito il video Yes Inoltre se voleste accompagnarvi Anche utilizzando la mano sinistra Ho realizzato un video che spiega Come poterlo fare Quindi vi lascerò il link in descrizione Anche di quello Ok? Ciao ragazzi Ciao a tutti Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti